ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario nutrilite gold informazioni commerciali titolare nutri science ltd concessionario medivet snc confezioni nutrilite gold gel 2x 60 ml dispenser formulazione sodio cloruro potassio calcio magnesio destrosio indicazioni elettroliti in gel per uso orale in una formula concentrata e specificatamente studiata per garantire il massimo assorbimento indicato per reintegrare le perdite di elettroliti posologia somministrare 60 ml dopo l'esercizio avendo cura che l'acqua sia sempre disponibile 60 ml possono essere ulteriormente somministrati dopo sei ore uno gel reintegra l'equivalente dell'uno per cento dei fluidi persi si possono somministrare due x 60 ml dopo una fatica intensa somministrare almeno tre ore prima dell'esercizio fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato